Panico e paura questa mattina intorno alle 8.15 a Montecorvino, Rovella. Un pacco bomba sembra sia stato recapitato in località Macchia al professionista Giampiero Dell'Ibovi, avvocato di soli 29 anni e collaboratore stretto del nuovo sindaco Martino Donofrio, eletto pochi giorni fa. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che l'avvocato abbia aperto il pacco che immediatamente è esploso. Il giovane professionista adesso è grave all'ospedale San Leonardo di Salerno e potrebbe perdere entrambe le mani. Il civilista non ha attinenze con la politica, collabora con lo studio di Donofrio. Sul grave fatto di cronaca e soprattutto per far luce sul movente di tale atto delinquenziale, indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal Maggiore Eric Fasolino.